Signore e signori, al Teatro delle Vittorie in Roma, non sparate sul pianista, il conduttore più scuro della televisione italiana, Carlo Conti! Sì, eccoci, buonasera maestro Stefano Palatresi, eccolo qua, è il nostro studio, il Teatro delle Vittorie, pronti per una grande serata di musica, di canzoni, di allegria, pronti per cantare e giocare con noi, due squadre, una, la squadra con un pianoforte nero, Alae Tassiere, il pianista Paolo Vallesi, e poi Luisa Corna, Matteo Becucci, Biagio Izzo, e dall'altra parte un pianoforte bianco, il pianista è Paolo Belli, e poi nella squadra Gigliola Cinquetti, Benedetta Valanzano, Gabriele Cirilli! Brava, buonasera! Che belle squadre, pronti, agguerriti a giocare con noi, il gioco è semplicissimo, tante manche, un gioco tutto musicale, si tratta di capire delle canzoni, si parte con una frase, la prima, ma si fa prima a giocare che a spiegare, la prima frase è questa, che arriva alle mie spalle, è una frase con sei parole, ciascuna nascosta da un numero, e si gioca a ping pong con una squadra e poi l'altra, si inizia con la squadra, vediamo un po' chi si fa iniziare, pianoforte nero! Il numero sei! Numero sei, vediamo la parola me, 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 ora per avere e per tenere in mano le redini del gioco e non passare la mano all'altra squadra, dovete cantare una canzone che abbia nel testo la parola me, te, non me, me, la parola me, non me, 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 ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo! Dieci ragazze per me, posso bastare, dieci ragazze per me, io voglio dimenticare, capelli di occhi da carezzare, e labbra rossa sulle quali morire, e dieci ragazze per me, solo per me, bene che ha detto, pieno di conti senza te? Mando, quello è proprio un moto perché, forse lo sa, che posso averne uno per il mio nome, uno per la sera, però quel matto mi conosce perché ha detto una cosa vera, dieci ragazze per me, dieci ragazze per me, dieci ragazze per me, però io voglio per te, io voglio per te, però io voglio per te, però io voglio per te, però io voglio per te, eh, passa mano, il gioco va al pianoforte bianco. Io credo che, eh, che dite? La uno. Vai. Dai. Una. 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 Una zebra pua. Buono. Una. Una zebra pua. Me l'ha tratta del papà. Uno strano maragia. Vecchio amico di papà. Una zebra pua, ve, che c'è? A pua, a pua, a pua. Una zebra pua. È una grande novità. Assomiglia un sofà. Non è strisca in me più a. Una zebra pua, ve, che c'è? A pua, a pua, a pua. Ok, ok, va bene. Parità, parità tra le nuove squadre. Mi sa che dovremo fare un'altra puntata per fare lo spareggio, eh. Ci vuole un'altra puntata per lo spareggio, ragazzi. Grazie, ci diamo a Cinquenti. Paolo Belli, Benedetto Alanzano, Gabriele Cirilli, Biagio Livso, Luisa Corna, Paolo Valesi, Matteo Meccucci. Grazie, Elena, grazie a Dado. Grazie al maestro Stefano Padresi. Ci vuole la rivincita, ci vuole la rivincita. E ricordate, non sparate sul pianista. Ciao! Grazie a Dado, GUESTREA! Hey! Bene a Dado! Grazie a Dado! Oh, oh! Dove male! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.